Anche David Beckham ha una fissazione, il suo pallino fisso o meglio un disturbo è ossessivo compulsivo. L'ex calciatore che oggi ricopre il ruolo di presidente dell'Inter Miami nonché marito di Victoria, ex membro delle Spice Girls, è ossessionato dalla pulizia. Oltretutto Beckham ce lo svela in una nuova serie Netflix. Beckham, oggi 47enne, in passato aveva già accennato il suo bisogno di tenere tutto perfettamente allineato, accoppiato e precisamente in ordine, ma oggi svela al mondo di restare sveglio per ore a riordinare casa dopo che tutta la sua famiglia è andata a dormire. Ma anche un'ossessione in particolare, le candele, che tiene accese durante tutto il giorno. Beckham dichiara di pulire benissimo, ma di non essere certo che sia apprezzato dalla moglie Victoria. Perché? Il motivo è che quando tutti sono a letto lui va in giro a pulire le candele, accende le luci al giusto livello, si assicura insomma che tutto sia in ordine, perché odia alzarsi la mattina e trovare tazze, piatti e ciotole in giro per la casa. Inoltre ha dichiarato di essere proprio ossessionato dalle candele, sì, perché non sopporta vedere la cera colata. Così le pulisce ad una ad una, tagliando via la cera dalla candela, pulendo il vetro che la contiene soprattutto, perché Beckham odia la macchia di cera all'interno del vetro contenitore di una candela e ammette di sapere che è una cosa strana. Inoltre David Beckham confessa anche di rimproverare sua moglie ogni qualvolta lascia qualcosa fuori posto. I Beckham vivono in una villa da ben 25 milioni di sterline a Holland Park, a Londra, acquistata nel 2013. Ha ben otto bagni, sette camere da letto, una palestra e un centro benessere. Pulirla tutta sicuramente non è facile, ma l'ex calciatore non si perde d'animo, perché avere ordine intorno a sé lo fa stare bene. D'altronde, chi non vorrebbe un uomo come Beckham al proprio fianco? Commentate, noi saremo lieti di leggere i vostri pensieri. Il video è terminato, lasciate un like, che è importantissimo, e iscrivetevi al canale, che è altrettanto importante, per noi e semplice per voi. Inoltre, così avrete la possibilità di non perdervi alcun contenuto che pubblichiamo. Un saluto e ci vediamo al prossimo video.